ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video siamo su ixion ringrazio a casedo games e kee miller per avermi dato l'opportunità di provare questo gioco che uscì 7 dicembre 2022 e questo primo anniversario è stata aggiunta la lingua italiana quindi sono onorato di poterlo provare e non vedo ora di cominciare ok partiamo nuova partita si chiama difficoltà io io c'ho famiglia vita non conosco bene i giochi però proprio comunque modalità predefinita penso breve non lo so quanto farò durare questo video alla fine un ex explode per me quindi proviamo sono veramente felice veramente contento di potermi provare per un tasso vediamo un po dai ok l'unico controllo No rile. Perchè la fronte e venti call? Check. Contro a EMB, Charon. Systeme, archite. Launch is in it. Personnel are instructed to evacuate the launch pad. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Wow. Impressionante. Veramente impressionante. Grazie. Impressionante. Settore 1. Quindi... Grazie a tutti. Bene. Grazie a tutti. 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 disponibili prima della mensa. Ok, dobbiamo garantire l'accesso al cibo, quindi andiamo qua, andiamo sul cibo e facciamo una mensa, ma facciamo, facciamo qua, così intanto ci prendiamo un materiale, nessuno, eh, che vuole un edificio ancora dato una riservativa assegnata a cibo, ok, quindi, costruiamo un attimo un'altra riserva. Facciamo così. Dai, dai. Ok. Ok, la mettiamo in cibo. Però, cerchiamo di fare il Canada una passata così, uniamo tutto, che vuole. Administrator, che un meraviglioso giorno per ammigliare la fede, non pensate? Sono Henri Bargeville, scrittore, filosofo, lobbyista, ma maggior parte di tutti i membri del Consiglio. Bene. Senti, bene, 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 bene. Ok, alcuni membri dell'equipaggimento sono senza ammoggio, giustamente. Dobbiamo fare le case, quindi facciamo un ammoggio, lo facciamo. Facciamo qua. Solo che mo' 85 membri, tu quanto spazio c'hai? Ok. Quindi, 1, 2, 15, 30, 45. Sessanta. Facciamo così. Noi dovremmo fare qualcosa per l'elettricità, però non abbiamo niente. Noi dovremmo fare una nave, una nave da trasporto, una scientifica, una nave da trasporto, una nave scientifica. Bene. Allora, già che ci siamo, lo vediamo qua. Allora. Nave scientifica. Quindi, ma mia frutta. Nave minerale. Sì, ma dov'è la mia nave scientifica? Nave scientifica, ho cerato, ragazzi. Ardonatemi. Ok, ma andiamo a sta nave qua. Mi ha chiesto della nave scientifica. Ok. Sperate, per cui servizio. I sistemi materiali sono per i... Potrebbero essere l'utilizzo di per il pistina e l'energia. Recupriamo tutti i dati. Vediamo che è succeduto. Una nave di rifornimento. Vediamo se ho fatto bene. No. Non credo che l'aveva fatto bene. Forse sì, vediamo. Dove? Non lo so. Credo di aver fatto bene. Non c'è più niente. Sì, ho fatto bene. Ok, ho aumentato la città. Perfetto, abbiamo trovato dieci punti di ricerca. Smanteniamo la base. E lo smanteniamo la base. Torniamo alla base. Notifiche. Sono queste qua. Mi richieste. Vabbè. Ok. Molto bene. gestione della popolazione. Pare tutto abbastanza tranquillo. Giustamente non possiamo emigrare da nessun altro settore. Abbiamo fatto tutto. Perfetto. Dobbiamo costruire un abbonatore tecnologico. No, lo costruiamo. Si può fare così. Bellissimo. Dai, sub, veloce. Niente, eh? Niente. Quindi cosa vuoi? Ma cambiano il libro? Eh, va. Cambio, eh, va. Ricerca. Anche se avrei ricercato un'altra cosa, direi. Allora. Ah, ok. Così si fa uno spostamento. Perfetto. Stiamo qui cercando una camera di equilibrio. Ci serve cibo. Prima costruire una camera. Mi mancherebbe l'energia. Vabbè. Vabbè. Facciamo. Voglio ricercare. Teneramento di insetti. Perfetto. No, mancherebbe. No, si pari altro. No. 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 Non, non. Ok, mandiamo la nave scientifica su Marte. Ci va? Ok, così va, ok. Con F2 noi vediamo questo, che alla fine niente di che, ah no, e cazzo niente di che. Benissimo, invece. Un illustrator, due to insufficient levels of electricity generation, Sector 1, a new request awaits your attention. Is power to... Allora, dobbiamo disattivare, quindi... Disattivo. Power restored. Andiamo a costruire una sezione di pannelli isolari che non so dove si faccia. Chi? Non so dove si faccia. Costruisci una sezione di pannelli isolari. Dove? Qui? Ah! Ok, facciamo così. Facciamo così qua. Facciamo... Facciamo del cibo. Dobbiamo fare tre. Quindi uno, due e tre. Vai! Andiamo se possiamo fare l'antitecnologia, si, ottimo, andiamo, perfetto. Perfetto, questo è ottimo, abbiamo queste fattorie di insetti, è cruciale, qua ci siamo, l'ho fatto, abbiamo il motore, quindi potremmo anche uscire. Questa è tornata, abbiamo portato la gente, porti i miei, ah no, mi devo prendere tutti i guanti, andiamo a prendere tutti. Quindi ora ci servono nuovi posti di lavoro all'interno, ciao, ci servono nuovi spazi proprio, lancia sonde? Quanto mi verrebbe a fare? Ah, facciamo, perché no, sempre tutti. E ci servono nuovi spazi, uno, due e tre. Aumentiamo qua, andiamo qua, facciamo un nuovo pannello solare. Facciamo un nuovo pannello solare, facciamo un nuovo pannello solare, perfetto. Perfetto, una buona, due, mi sono arrivati. Come un secondo, un nuovo pannello solare. Come un secondo, un nuovo pannello solare. E' un nuovo pannello solare, un po' di preparazione, calibrazione e verificazione, è successivamente completato. Deve adesso iniziare la procedura di fondazione. Dolo's protocolli ora si siano competenti per scegliere le risposte, le ricordine e le ruttime di colonizzazione. Routines, once you reach Toxima Centauri, before you do so, Vanir Dolo's, Marduk Council founder and Dolo's CEO, wants to talk to you. Okay. Hello, Administrator. I'm glad to see that you have managed to complete your assignments and preparation for this unique moment in history. You must understand that this is not simply another chapter of humanity's story. The book of our life on Earth is over, standing now at its epilogue. It saddens me to think that there are many who have yet to comprehend the reality of our situation. We've endured endless cycles of war, crisis, and famine. Still, the worst is yet to come. There are others, like Dolos, who have prepared for this outcome. But most of our kind remains sheltered from the horror of the predicament we find ourselves in. This pale ghost of civilization will wither and die, and with it, the tenets and values of the past. As we prepare to leave this system for the first time, perhaps we must decide which fragments we will pick up and take forward with us. Through Dolos, I am offering mankind an alternative means of survival. The Tycoon is a tablet upon which we will carve our new history. Do you recognize why I have done all of this? Having foreseen our fate, I became fixated on altering it. I set about fashioning the ropes and tying the knots that would bind together this magnificent ship. It is true that our time in this world is brief, but at least I can rest assured knowing that my legacy will endure for eons. Farewell, Administrator. For the few who stand in the light and the many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. Bene. 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 Quindi. Spostiamo la orbita della luna. Ok. Perfetto. E con questa scena, ragazzi, io chiudo il video qua. Invece no. Lo facciamo adesso. Andiamo. Terminiamo adesso il promodo. Sono davvero contento di averlo terminato. Iniziamo il santo sissignore. Lo guardiamo assieme. E questa sarà la fine del video. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ringrazio per la Casendo Games per aver invitato la Ki e Ki Mini Neger, ovviamente. Grazie per aver invitato questa grande opportunità di conoscere questo fantastico gioco. E noi ci vediamo. secondo me, su un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.